Onorevole Di Stefano si parla del decreto terremoto che voi definite vuoto e poi oggi fate delle proposte proprio in tema, proposte che dovrebbero andare a vantaggio del territorio e delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto e dal maltempo. Le passerelle inutili del presidente Gentiloni non sono servite a nulla, le dichiarazioni vuote del presidente D'Alfonso men che meno e allora arriviamo noi con delle proposte operative. Uno, che lo stato di emergenza si caratterizzi così come avvenne per la regione Piemonte con la nomina di un commissario nella persona del presidente stesso della regione, con sub commissari i sindaci dei comuni interessati e con uno stanziamento di almeno 120 milioni di euro per tutto ciò che riguarda i danni alle strutture, alla viabilità, alle imprese, diretti e indiretti, quindi il danneggiamento del commercio, delle attività produttive e quant'altro. Due, l'istituzione della zona franca, zona franca che può essere sia urbana che più estesa, zona franca urbana sicuramente per la città di Teramo e per la città di Chieti, ma anche più estese secondo le disponibilità e le volontà del governo. Infine un intervento speciale per la città di Teramo, in particolar modo per il diritto allo studio, per la realizzazione dell'uomo a casa dello studente, perché a Teramo si sta avendo anche lo spopolamento della popolazione studentesca dovuta alla contestuale drammaticità degli eventi calamitosi e degli eventi sisbici. Per quanto riguarda lo stanziamento dei 30 milioni iniziali per l'emergenza, io ho trovato risorse per inalzarlo di altri 100 milioni di euro, noi esigiamo che si faccia per l'Abruzzo quello che si fece nel 2015 per il Piemonte.